un benvenuto a tutti in questo simpatico nuovo modpack chiamato beyond reality che se il mio cervello non mi inganna e sinceramente mi ha ingannato quando ha avuto la furbata l'altro giorno mi ha detto tipo ma si fai un altro modpack un po più complicato io ho detto ma no dai c'è ancora quello vecchio, ma quello vecchio c'è il mondo a puttane ma no dai proviamo qualcosa di più figo e così ho tirato fuori sta troiata di fare questo modpack simpatico in questo simpatico modpack c'è uno di quelle mod che io odio perennemente per tutta la vita fino a quando giocherò a minecraft c'è la grechtek però, c'è da dire un però, non è la grechtek originale, è una grechtek taroccata da quello che ho capito infatti, se adesso non so se si vede, adesso si vede, qui in fondo sulla sinistra c'è scritto backup your words backup your words perché da quello che ho potuto capire e le giocchiare qui qua qua su internet è un pelino instabile sto modpack perché c'è la grechtek, ma non è la grechtek quella ufficiale come stavo dicendo non è quella di Gregorius, come si chiamava? Gregorius qualcosa, vabbè ma è bensì la grechtek è quella di un tizio che ha fatto cose, persone e animali quindi, giusto per iniziare questa serie e poi forse vedrò se farne anche un'altra meno incasinata ecco, stavo pensando di dargli un nome abbastanza, come si può dire, fantasioso tra virgolette infatti penso di chiamarla grechtek versus ikimoto ehm... ehm... Greg... T-E-C-H, se si chiede così V-S versus i... 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 Kimoto tra un po' non mi ricordo anche io come si scriveva il mio nome, fate i video conti allora, per una maggiore sicurezza però, senza che la gente si offenda nelle more world options mi metterei cheat, in modo che posso, in caso di casino col mondo posso andare a rancare via gli oggetti che mi... mi servono o quelli che danno fastidio ehm... in più volevo mettere, come nel world type, anziché mettere il default, ce n'è uno eh... che si chiama Highlands il world type Highlands eh... non è, ehm... un... uno specifico bioma ma bensì, se non ho letto male è un... mod... una mod che, eh... praticamente, ehm... aggiunge una trentina di biomi è tipo la Biome Supplantly però, eh... visto che... che io sappia perché magari non l'hanno neanche detto ma... ehm... nessuno l'ha ancora usata questa Highlands come generazione di mondo eh... volevo provarla io a vedere che cosa cazzo saltava fuori allora, dunque prima di tutto ehm... dunque strutture on Highlands la lo cito on, vi lo oggetto il perché bonus chest vabbè, se ne frega, facciamo off anche se c'è la Grektek eh... Done ehm... Grektek versus Ikimoto va bene ok, possiamo creare il mondo sperando che non esploda ehm... in caso il mondo esploda durante il caricamento ci rivediamo quando sono già dentro al mondo per sicurezza mh... quindi ci vediamo vabbè, se il caricamento dura ci sentiamo se no, ci vediamo dopo intanto che il coso carica potrei parlare dire cose fare persone e animali però non essendo sicuro che ehm... il... il mio compito stia ancora registrando perché quando c'è la generazione della Grektek è sempre una come si può dire ehm... una cosa pericolosa perché ehm... la Grektek praticamente come tutti sanno va a... come si può dire va a interferire con quasi tutte le mod soprattutto quelle tecnologiche quelle magiche mi sembra poco e niente eh... però quelle tecnologiche tanto molto troppo assai ma dovremmo dovremmo essere quasi dentro al mondo forse se ce la fa dovrebbe farcela sta morendo ce la può fare non ce la fa sta caricando qualcosa ce la sta facendo vedo cose che vanno a scatti e vedo... sento fuochi d'artificio eccoli qua allora space manager lo chiudiamo innanzitutto perché non ce ne frega una ceppa di minchia poi ah... dunque siamo in un mondo eh... eh... no ho cliccato qualcosa sbagliato bene eh... ehi cos'è to lag? eh? uh... fico non so cosa sia ma va bene eh... cos'è? cotton va bene andiamo del cotone giusto per iniziare abbiamo anche un fastidioso rumore di roba rotta che non so che cosa sia sinceramente eh... mi ricordo che però è un rumore che fa di solito la grette quando si rompe qualche oggetto ehm... dunque vediamo un attimo la mappa cosa ci suggerisce allora vediamo un po' vediamo un po' vediamo di salire sull'albero a vedere se si vede qualcosa in più allora in fondo vedo una adesso io mi metto di traverso perché sennò non si vede bene là in fondo c'è una specie di montagna grigia di qua sembra esserci un villaggio e di qua sembra esserci un porco no di qua sembra esserci il mare però prima di andare al mare ci sono i porci ci sono le mucche ci sono le vacche io direi di andare a tirarci un'occhiata al nostro villaggio che abbiamo qua nelle vicinanze così giusto perché magari abbiamo giusto quel pelo di culo che aia mi sono fatto male che troviamo qualcosa di utile allora la zucca di per sé non ci serve ma per sicurezza una me la prendo anzi facciamo due così una la teniamo e nell'altra ci facciamo i semi dunque vediamo un po' cosa si può fottere in questo simpatico villaggio ci sono tanti villager quindi c'è un'ampia possibilità di scambi forse allora buongiorno buongiorno salve senta lei cosa vende? lei per uno smerrandomi da otto polli no grazie tanto ogni tanto sento qualcosa che si rompe ma non capisco cosa poi qui abbiamo un villager chiuso in casa sembrerebbe adesso mo te libero io così ti viene a fan giro salve tu vendi qui ah 15 polli crudi per uno smeraldo interessante tu invece che hai un gatto in testa cosa mi vendi? scusi lei vende uno smeraldo per del pane ma la grecktec non dovrei toccare soltanto le mod magiche e le mod tecniche uno smeraldo con 10 frecce ma certamente sono tutte occasioni proprio dell'ultimo minuto queste qua da cogliere al volo andiamo un po' di qui invece tu per uno smeraldo mi dai delle mele mi sembra giusto e tu per del grano mi dai uno smeraldo tu potresti essere utile devo trovare un modo di sfruttarti tu invece ah sei quello dei cosi perfetto tu sei quello di cosa? scusi lei signore signore scusi ah tu sei quello che ho già visto te sei inutile come non so che cosa tu sei chi sei te? fermate tu sei di nuovo quello dei polli non c'è molta scelta in sto modpack tu offri tu offri un clonelange fragment per quattro smeraldi lì c'è no vabbè già che siamo qua mi scusi ma un po' di cose gliele fotto tanto a lei i libri non servono è già abbastanza acculturato così si può definire e quanti cazzo di libri sono? vabbè sono un po' di libri un po' di cultura che non fa mai male bene dopo avergli ampiamente svaleggiato la casa possiamo tentare di entrare in questa che è vuota ma vaffanculo tanta fatica per niente uh tu c'hai il camice bianco scusi dottore venga qua dottore cosa mi offre? ah no niente un cazzo quello che non mi serve poi c'è questo qui che è un dottore più figo ancora che è un villager se te sta fermo tu mi dai i gold coin perfetto non so come farli quindi poi ci interesseremo di qui c'è ancora qualche cosina dunque questa è vuota questa è vuota questo uh salve ah quello del pane va bene io mi prendo già le patate le patate poi mi posso già prendere anche le carotine intanto sono già tutte cotte e si cotte sono già tutte pronte e di là vado prendermi un po' di grano e vaffanculo dopo che ce l'avevano il grano è qua sotto forse si giusto qua c'è il grano allora grano 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 e quello no ah qua ci sono altre patate pronte patate patate grano 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 io il resto io il resto del grano quasi quasi lo lascio perché così in caso di estrema necessità so che qua c'è ancora qualche residuato bellico là c'è del grano non mi ricordo se l'avevo aia se l'avevo già preso o meno forse no quindi uno due tre di grano qui una patata due patate basta si altro mi sembra che non ci sia purtroppo non c'è molto da razziare in sto villaggio speravo qualcosa di meglio ma pazienza allora qui non c'è niente qua c'è una strada che esce questa è la casa di qualcuno ah lì c'è ancora un pezzettino di grano da fottere aspetta questa casa qua che casa è che mi sfugge questa qui è la casa di 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 se trovassi l'entrata puttana avrà un'entrata sta casa aia aia chi cazzo sei te cos'è un cubo di un cubo di un cubo di dirt vivo qui c'è una cesta attenzione degli skinksack dell'acqua si dell'acqua buonanotte un mirror glass della towncraft che non so che cazzo serva uh salve lei sarebbe sempre il solito abbiamo anche acceso la luce abbiamo un painting e abbiamo delle cose strane che non so che cazzo siano sono dei developer firebat forma aspetta eh sono dei witching gadget che non so cosa siano mi prendo anche il dipinto in modo che posso appendermelo poi in casa quando voglio e ci prenderemo anche i frame così in modo molto randomico ma soprattutto senza motivo si il painting il dipinto però ciccio frullo dove mi hai messo ah ecco sotto ok non c'era niente di particolarmente interessante questa casa qui l'avevamo già guardata quindi niente sono passati 13 minuti e non abbiamo fatto un cazzo mi sembra una cosa ottima allora ma andiamo dunque dato che qua non mi piace come posto perché è troppo montagneggioso giante penso che me ne andrò verso l'infinito e oltre ovvero avevo visto il ma no non questa mappa mi serve l'altra grazie ho visto una specie di mare o lago questo qua cosa è considerato non riesco a capire se sto qui no è considerato birch forest questa nonostante siamo sembri un mare siamo una birch forest vabbè ma vediamo un attimo se per caso ma che brutto che sei se questo è un mare o se è un lago cosa cavolo che è mi sembra un po' chiuso però come forma mi sa tanto di lago vediamo un po' se l'è in alto nella minimap si è un laghetto del cazzo allora sta anche diventando notte puttanella allora affetta un attimo facciamo una cosa molto tattica andiamo a rifugiarci nel non ho visto una cazzo di piccola a pagarla oro non posso neanche farmi il letto per schipparla a notte vabbè pazienza allora andiamo a dormire nel villaggio cioè dormire per modo di dire a schipparla notte nel villaggio e ci vediamo nella prossima puntata per come si dice per metterci in marcia verso la ricerca di casa quindi ci vediamo nella prossima puntata che non so ancora quando sarà ma sarà ci vediamo nella prossima puntata e dalle prossime puntate a parte questa che non ho fatto una beata ceppa di niente sono ammessi consigli e suggerimenti per sopravvivere in questo modpack quindi mi rinchiudo in casa con questi simpatici villager e mentre distruggo questa cesta per poi portarmela via un saluto a tutti e alla prossima un saluto a tutti e un saluto a tutti